Salve a tutti ragazzi, sono LordKane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato dopo un po' di assenza da YouTube perché ho avuto un sacco di cose da fare tra coaching fatto e subito, perché a volte subisco anche dei coaching, capita diciamo che è stata una situazione un po' tosta e per mia fortuna barra sfortuna molti player hanno chiesto una read privata perché credo che credano multilevel thinking che se qualcuno guarda il suo video poi lo exploita beh insomma siamo qua per migliorare, per ragionare, se riusciamo ad analizzare dei leak in questi video, chiaramente dopo aver visto questo video il giocatore lavorerà per sistemarli per cui meglio se credono che abbiamo dei leak che in realtà non abbiamo ah ah la congiura, illuminati con firmware, non so neanche cosa sto dicendo la lead è appena iniziata, partiamo benissimo comunque Hero of the Day è il nostro ninja, giocatore nuovo del club Nonimi 5, mani giocate su un po' troppi tavoli, ho già dato un occhio a molte cose mi sono segnato un po' di mani, diciamo che 40.000 mani dove facciamo un meno 58 dv più un 100 qualcosa di back quindi in realtà diciamo che come idea avremmo tirato fuori un cinquantello che comunque è poco insomma 10 bain in 40.000 mani non molti credo grinderebbero per fare questo profitto ma sicuramente abbiamo cose interessanti su cui ragionare, su cui da correggere da capire anche a seconda insomma del feed che abbiamo incontrato delle impostazioni di gioco del nostro Hero con cui faremo una bella sessione settimana prossima e ci divertiremo come dei pazzi comunque partiamo da una rig generale, partiamola, vediamo cos'è accaduto al nostro Hero il V e Reale sono incredibilmente vicine anche se siamo sempre stati un gradino sotto il V ma non c'entra assolutamente nulla il V, non si guarda in queste cose ma vediamo che la nostra rossa scende brutalmente di 3 e la nostra blu sale di 2,5 poi vabbè con la back che c'è siamo positivi lo stesso, GG ma in realtà dobbiamo sicuramente migliorare qualcosa nel approccio di linea rossa e sulla linea blu può centrare anche dell'arancia, ci mancherebbe le mani non sono così tante ma diciamo che è abbastanza bassa con la lunghi momenti di totale even se pensiamo per esempio a questo intervallo dalla mano 16.000 alla mano 20.000, sono 10.000 mani in cui la nostra blu è rimasta sostanzialmente invariata abbiamo perso praticamente perché la nostra rossa intanto scendeva bellamente di un sacco di stack tipo circa 60 euro, circa qualcosa del genere quindi dovremmo cercare di pensare in primo luogo a sistemare un po' la nostra visione di gioco passflop le nostre impostazioni di gioco per flop per migliorare un po' la nostra linea rossa che sta un po' sparendo a questo, proprio per questo motivo, a questo, chissà cosa volevo dire per questo motivo terrei a considerare anche il fatto che stiamo giocando un po' troppi tavoli in generale e che le nostre linee comunque hanno un'impostazione 22-20 con bassissimo gap di call una linea di gioco che a mio avviso è un po' troppo impostata e un po' troppo poco sui nostri avversari comunque andiamo a vedere un po' un'analisi partirei però dal nostro ad, eccolo qua ho aggiunto un paio di stats giusto perché mi sembrava una cosa figa farlo abbiamo aggiunto il check, fold, flop e spareflop raise nei piatti diciamo, credo sia uno single raise ma in realtà non ho applicato altri filtri per cui diciamo che quanto noi stiamo proteggendo il nostro range di check e quanto invece diciamo stiamo sbilanciando le nostre c-bet per esempio il nostro hero beta abbastanza poco flop e di questo abbastanza poco che beta la parte che check tende a foldarla il 70% delle volte come idea generale noi vorremmo checkfoldare diciamo 50 come idea e già è una linea che ovviamente dipende molto da quello che stiamo affrontando come field ma non vorremmo crearci una linea sbilanciata per i nostri level up futuri chiaro è che se stiamo cercando contro un giocatore che ha 10 di bet vs miss ed ed è un 50-10 il nostro range di fold sarà abbastanza più aperto se stiamo invece cercando contro un giocatore più o meno standard non dovremmo scoprire così tanto i nostri range da dover poi foldare due terzi abbondanti del nostro range di check è una cosa a tenere in considerazione la seconda stat che ho aggiunto, questa qua in basso, è il nostro check raise overall per cui la nostra media è il check raise 4 è medio-basso, anzi è praticamente solo value, strong value quasi direi e potrebbe essere qualcosa che può andare per lo stake non dobbiamo cercare di avere troppo il check raise non è esattamente una linea di gioco straight forward e per questi stake a mio avviso la linea di gioco non straight forward è raramente la scelta corretta ma a volte capita che lo sia prendiamo per esempio un giocatore a caso, il nostro wizard TM che ha una linea di c-bet esternamente unbalanced, pass flop nei tri-betati 70-30 è chiaro che un giocatore del genere potrà subire un po' di più del check raise di un giocatore magari come il nostro Pollix che ci betta il 50% delle volte 0 sul tarna, cosa è successo in queste 2.000 mani bro? chi lo può dire ma tanto non stiamo analizzando lui cerchiamo di capire cosa è accaduto al nostro hero la linea di gioco è 22-20, bassissimo gap di call il nostro squeeze è leggermente sotto alla nostra tri-bet tendiamo a overfoldare in posizione rispetto a quando apriamo standard per cui mi aspetto di vedere per esempio dei 40-50-60 come fold, UTG, cutoff e botton immagino dopo lo andremo a vedere la nostra linea di c-bet missa un po' sui flop va abbastanza bene la difesa nei single raise poi in generale il nostro check fold è mediamente alto la nostra donk è incredibilmente alta 25 di donk bet, giù nelle ultime 20.000 mani vuol dire praticamente donkare ogni volta che abbiamo qualcosa in sostanza molti giocatori, molti squali coaching diversi esteri anche piuttosto in gamba impostano la donk bet dei propri giocatori proprio a 0 cioè non si donka ragazzi, non si donka ecco però a mio avviso è eccessivo possiamo pensare che una donk del 5 tende ad essere una donk estremamente chiusa principalmente value strong magari avendo chiamato multiway fuori posizione con mali mining come 2-2-4-4 una donk a mio avviso è da tenere come idea potrebbe essere attorno al 10 come linea esploitativa proprio pensando a chi stiamo, qual è il target diciamo della nostra donk bet cosa ci stiamo prefiggendo post flop un punto è donkare fish un coin che comunque stiamo giocando fuori posizione quando fish ha rilanciato pre flop per cui dobbiamo sicuramente avere già un piano o qualcosa perché chiamare fuori posizione fish non è esattamente una cosa che ci piace fare ma a volte si può fare quando invece stiamo giocando contro un giocatore un po' più sensato dovremmo avere rid di quello che ci aspettiamo che faccia a seconda di quanto confident è il nostro avversario in questo spot questa comunque come lettura generale andiamo a vedere in position se le cose sono effettivamente così guardando la nostra linea di difesa mp cut off button contro 3 bet andiamo a difendere 50, 56, 58 cioè difendiamo metà del nostro range quando siamo under the gun e foldiamo un 10% o più quando siamo da bottone non è un gap estremamente grande però è comunque una linea un po' unbalanced che può essere diciamo sfruttata a vantaggio dei nostri avversari che hanno questo tipo di lettura su di noi come idea generale noi dovremmo cercare di difendere una diciamo una proporzione una percentuale del nostro range ma il nostro range cambia in base alle nostre posizioni poi capita a volte che noi sbilanciamo le frequenze per esempio siamo da bottone siamo contro dei raggi estremamente chiusi che magari multitablano ammontiamo un po' il nostro range e normalmente non difendiamo una parte allargata perché se la nostra lettura era che l'oppo overfoldava magari tribettando solo il 5 è chiaro che quando poi veniamo tribettati non possiamo difendere un range che si basa sul nostro range situazionale perché dalla nostra read il nostro hoppo è sempre strong e noi siamo sempre weak a meno di non è che hoppo non sia estremamente un balance pass flop non dovremo poi inventarci grandi cose la nostra linea di squeeze è piuttosto bassa 6 fuori posizione dai bui 6-6 e vabbè 9 da bottone ma su un campione un po' ridotto in realtà è probabile che questo 9 non sia attendibile su solo 8000 mani in posizione non è certo uno spot molto frequente però è naturale che noi stiamo perdendo un po' di linea di squeeze se noi squeezeiamo dai blinds 8-8 di media ai 6-6 in squeeze probabilmente dovremo ricostruire un po' i nostri range in questo spot i nostri range di squeeze generalmente comprende un value e riadattato a una situazione specifica su cui abbiamo una buona read e può probabilmente contenere anche un maggior bluff in questi spot il nostro momento showdown è abbastanza buon IP un po' alto fuori posizione mi pareva di aver intravisto anche una river con l'ufficio si bassa bassa 0-9, 1-1,5 di media molto bassa diciamo la small blind con un gap di call no, un call call abbiamo l'1 ok, per fortuna almeno a Hero decisamente non piace la linea di call call torniamo all'inizio nella 6 stats la linea di preflop è un po' chiusa da early può andare bene poi in generale quando la posizione si allarga il call call sostanzialmente non esiste chiamiamo un po' di più dei bui ma ho già visto che il BB tende ad essere overfoldato apriamo una mano qualsiasi perché potrei sbagliare ma quando mai ho sbagliato abbastanza spesso in realtà foldiamo infatti l'80% dei bui grandi contro il controbottone il 70% contro lo small foldando una media del 75% che è una di quelle cose che va a inficciare un po' la nostra linea rossa dobbiamo pensare che noi dovremmo difendere almeno ma veramente almeno un buio su 3 se no stiamo generalmente overfoldando poco importa amministrativamente l'avversario chiaro è che se l'origine resa è un giocatore che apre il 10 magari foldiamo qualcosa di più ma in linea di massima stiamo foldando un po' troppo i bui e non stiamo difendendo abbastanza bene anche perché il nostro check fold medio tende a essere un po' troppo grande per cui dobbiamo fare attenzione alla nostra linea fuori posizione in più anche quando chiamiamo tendiamo a raggiungere spesso lo showdown e siamo poche volte buoni cioè più di metà delle volte andiamo a perdere la nostra mano come linea in generale abbiamo visto la nostra linea di range posizionali la nostra 3 bet che è uguale a tutte le posizioni più alte da bottone cosa un po' curiosa in realtà la nostra 4 bet 3 forse mediamente è anche troppo alta ho visto più che altro spot dove Iro improvvisa crea linee di call per poi l'impresare o call con raisare che sono giocate assolutamente non standard praticamente mai giuste a meno veramente non avere una lead estremamente strong e avere apposta creato un range molto forte per giocare diciamo una situazione ottimale contro un giocatore su cui abbiamo una forte lettura non dovrebbero essere assolutamente giocate standard quando vediamo l'impresa generalmente ci freghiamo le mani e mettiamo già nota sul giocatore sapendo che non arriverà estremamente lontano come tipo di avversario una 4 bet comunque mediamente alta per la popolazione del livello che ha forse una 4 bet media di 1.8 1.7 qualcosa del genere già a 4 bettare 3 è probabilmente troppo alto ma in realtà io credo di tenere un po' di più a questi stake ma la read credo sia un po' superiore abbiamo già letto la nostra squeeze della nostra win to showdown la nostra continuation bet è mediamente abbastanza bilanciata 53-53 sarebbe ottima nel senso che non permette a Oppo di essere exploitato e non permette a Oppo di exploitare noi scusate ma sarebbe decisamente interessante andare a vedere gli spot specifici perché se la nostra rossa non è così buona e la nostra blu tende a scasciarsi si può scasciare una lina certo sicuramente dovremmo cercare qualche spot specifico la nostra linea di aggression è abbastanza ben distribuita 3-2-27 può andare la river qualificia sia medio-bassa ma 1-5 di media non è neanche così terribile ma è piuttosto bassa fuori posizione accompagnata ad un alto win to showdown bene, ora che ho finito questo lungo discorso introduttivo non finiva più andiamo a dare un occhio alle mani che ho marcato perché ho visto nello specifico diversi spot dove manca manca in realtà un po' una costruzione mi sembra quasi che lo stia un po' improvvisato la linea in questo tavolo è un tavolo con un 70-0 un 75 un 60-40 e il nostro Astinos che ha un 26-20 i giocatori più sensati di questo tavolo ovviamente saranno Ninjo e Astinos che guarda a casa sono due giocatori due club nostro club comunque apre Asti e foldano tutti qui ti ripetiamo come parte di Bluff giocatore che tende a foldare 67 non folda tanto pass flop la linea è il limite ma ci può fare l'importante è sapere quello che stiamo facendo cioè quanti assi abbiamo in questo spot quanti assi peggiori abbiamo nella nostra linea di tribet non credo molti probabilmente nessuno soprattutto nella topside comunque il nostro Oppo ci chiama su questo board se questo è il nostro asso più debole contro questo giocatore potremmo anche valutare una linea di check bettiamo una size piuttosto strong per essere un tribetato uscire due terzi su un board così dry da cosa mai potremmo prendere value dal nostro Oppo può il nostro Oppo avere asso 7 per esempio decisamente no perché è un giocatore che ha malapena ha gli assi 7 suited nei range da cutoff e generalmente li folda pre flop per cui attenzione a cosa stiamo cercando di fare con questa mano bettare due terzi su questo board dry riceviamo il call del nostro Oppo che tende anche a foldare non tantissimo ma a foldare abbastanza poi sul turn rivalo e bettiamo turn in realtà questa non è neanche una value perché onestamente qui il nostro kicker sta per sparire e nel range del nostro Oppo è composto solo da mani che battiamo cioè da mani che ci battono tipo sulla sua forbet a K in teoria sarebbe stata rilanciata pre asso Q off magari è stata chiamata asso jack è stata chiamata asso 10 è la nostra identica mano asso 9 solo suited forse potrebbe avere in mano il nostro Oppo comunque sul raise del nostro Oppo qui non abbiamo assi peggiori abbiamo un gutshot per salvarci le chiappette diciamo non diciamo che pescando al 25% non possiamo pensare di essere buoni Q jack forse è una mano che il villain può avere magari qualche combo di Q jack pick Q jack quarry non può Q jack quadrino non c'è non può Q jack fiori è un po' forzata ma può esserci per cui un paio di combo di doppio e contro cui anche l'asso è out ma onestamente qui contro questo giocatore questo è il nostro asso più debole su questo board il nostro vantaggio il nostro Oppo ha troppo vantaggio direi dovremmo decisamente superfoldare invece Iro non folda Oppo snappa e Iro snappa Oppo gira doppia e noi lo scoppettiamo belli e allegri ecco attenzione a capire bene il nostro range in questo caso di cosa consiste chi ha un vantaggio di range su questo board che significa il range del nostro Oppo che comunque non ha una linea particolarmente aggressiva e che cosa noi prefiggiamo dalla nostra mano non possiamo rilanciare preflop e poi appena esce un asso bet 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 non si folda mai non si crea una linea diciamo motivata perché la nostra vera forza viene da anche soprattutto dalla nostra lettura qui c'è una giocata molto strana contro Ariamo all'Oppoc che forse è giocata letta contrario è Copalamario Copalamario si potrebbe essere il nome con il nome scritto a contrario ma che fantasia comunque Oppo rilancia per tre noi non rilanciamo e già qua c'è qualcosa che non mi convince il nostro Oppo è un 80-20 non abbiamo molte info ma qui stiamo missando tanto 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 valo nel preflop poi qui ci inventiamo i massimi cecchiamo che risiamo su questo board dove noi mettiamo veramente il nulla questo turn che fra l'altro migliora un sacco il range di open raise di un bottone in zap mettiamo ancora turn e poi su questo river a questo punto shamala ya e mandiamo il vascone assolutamente fuori frequenza un minimo di blocking nel senso abbiamo l'asso di cuori per cui a essere super pignoli qualcosina bloccheriamo ma stiamo giocando contro un 80-10 su un board di carte medie fra l'altro improvvisando una linea dove chiamiamo pre tenendo il piatto di una piccolezza importante 30 centesimi che sono 6 grandi bui e andiamo a giocarcene 120 poi sul river in una linea di gioco assolutamente sbilanciata e credo anche senza una lettura specifica perché su questo giocatore abbiamo 20 mani in database qui per flop dobbiamo decisamente tribettare poi su questo board la situazione di certo non è delle migliori ma stiamo giocando e zap dovremmo avere lettura su un giocatore estremamente passivo di certo una linea con lo pre check raise un giocatore 80-10 fra l'altro è una linea estremamente improvvisata e non vogliamo trovarci a improvvisare in questo spot se no è chiaro che sarà difficile tirare fuori profitto dalle nostre giocate in questo spot comunque i rochiama questa mano l'ho segnata per ragionare sulla nostra linea di dongbet non tanto per la mano specifica il nostro hop ha un 26-18 un giocatore che donca tantissimo donca 36 ma su un campione ridotto di mani check folda 100 over folda pre non folda mai over folda over folda post e pre flop non folda veramente mai check folda molto una linea di cibet neanche troppo intensa però donca veramente tanto in questo spot donchiamo e si può voler fare perché l'hop veramente donca molto ma dobbiamo assolutamente prendere note su quello che fa il nostro hop perché è una linea fuori posizione con questo tipo di mani soprattutto doncando noi veramente tanto tanto range diventa estremamente difficile poi da gestire il nostro hop in questo caso ci resa noi difendiamo la prima difendiamo la seconda difendiamo anche la terza difendendo sempre comunque abbiamo un minimo di blockers per il range di top value bloccheremo kq ma se pensiamo al range del nostro hop sulle sue linee soprattutto la presa flop non so cosa possiamo pensare di battere io ritengo che qua un bottom range sia un jack con un buon kicker non vedo moltissime combo di draw che il nostro hop ripuserebbe river anche perché non ha delle frequenze particolarmente aggressive qui abbiamo preso una top pair l'abbiamo don collata col 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 nel senso che tutto il nostro range qua è stato collato non vorrei che io si trovasse in queste situazioni quando siamo in queste linee fuori posizione la ride deve essere forte se no la giocata non è assolutamente standard questo hop non betta neanche molto spesso per cui è un giocatore diciamo exploitabile anche in altre linee ma non decisamente in una linea betto flop per chiamare per poi chiamare any turn any river any turn turn è abbastanza blank river un po' meno qui comunque hero chiama oppo gira su jack possiamo prendere nota di come ha giocato questa mano mi raccomando alta linea di dong bet e alta linea di dong bet anche da parte di hero linea di gioco da rivedere la nostra linea di dong bet soprattutto fuori posizione ci è costata parecchio sia allo showdown che al non showdown ma soprattutto allo showdown qui cosa succede apre 4x un giocatore 50-10 non tribetiamo se non ricordo male qui in realtà sarebbe un minimo rivalo dovremmo avere contro il giocatore che apre il 20 da tutte le posizioni 10-10 abbastanza value anche perché il nostro hop folda veramente veramente molto poco ed è un giocatore abbastanza passivo folda il 30% per carità su poche mani è un giocatore passivo pass flop onestamente qui avrei preferito una linea di raise qui come al solito donchiamo il nostro value ed è una cosa che hero fa un po' troppo spesso su questo turn che accoppia mettiamo ancora il nostro value oppo ci raise a turn ed è un giocatore nitty passivo 40-20 che folda 0 ha delle linee di gioco che a mio avviso qua ci stanno veramente urlando la mano è morta ma hero fa una cosa strana nel senso che chiama per poi chiamare river contro un giocatore che di aggressivo non ha neanche il nome perché credo che cerquiplo voglia dire caro pony spiccioso e coccoloso in alamaico e in realtà se ci vediamo avanti su questo turn non c'è motivo di non risare il punto focale di questa questione è che hero è partito da una dongbet e di nuovo lascia giù l'ishtec poi hero qua gira la mano della magia gira 3-2 pre flop abbiamo missato value al turn abbiamo missato lettura river non abbiamo mai foldato contro un giocatore che comunque è un 50-10 con uno di aggression factor quindi un giocatore abbastanza sereno non c'è motivo di prendere fra l'altro su un board 9 alto per cui non è che abbiamo molte overpair molte coppie nel range del bloppo che noi battiamo 8-8 6-6 5-5 dubito giocherebbero così qualche 9x potrebbe anche giocare così qualche draw non credo che villain trasformerebbe in blef visto le sue statistiche attenzione alla nostra read e attenzione al fatto che siamo partiti da una dongbet fuori posizione ma se riuscite a doncare in posizione fatemelo sapere in questo spot apre il nostro polix under the gun 3x giocatore che apre il 13 per cui un giocatore con un range estremamente chiuso quindi sostanzialmente value e maniche andrà poi a difendere spesso assojack off in questo caso può far parte del nostro range di blef abbiamo un BB che tende a squizzare abbastanza un fish da bottone e un fish nel senso 50-10 e un 30-20-10 da small blind di cui non dirò nulla però diciamo che con la linea di tribet si può anche fare proprio in virtù del fatto che c'è un giocatore da BB che tende a squizzare abbastanza quindi magari avevamo un motivo per farlo ma quando stiamo tribetando un giocatore under the gun capre il 13 dobbiamo pensare che le nostre combo off-suit in caso di 4-bet difficilmente devono essere difese perché contro un range di under the gun di un giocatore capre il 13 e che ci 4-betta in questo spot assojack gioca veramente male nel senso che nel range di Oppo le uniche mani contro cui abbiamo equity sono QQ e KK probabilmente le uniche mani se prendiamo il jack non siamo mai buoni se prendiamo l'asso non siamo mai buoni è proprio quel tipica mano che tende a essere estremamente dominata ok qualche combo suited in difesa assojack suited KQ suited mani di questo tipo possiamo anche volere difendere ma il nostro range off-suit soprattutto considerando con cosa stiamo tribetando un giocatore come Pollix che apre il 13 quindi la nostra linea di bluff non deve essere estremamente intensa e va bene che comprenda qualche blockers qui dovremo saper foldare una parte del nostro range difendere anche assojack è un po' eccessivo comunque difendiamo esce un board piuttosto shoot diciamo Oppo poi barella terno difendiamo barella river difendiamo contro il suo range onestamente qua cosa mai battiamo del suo range di bet qualche combo sì forse Qjack suited forse sì Qjack quadri che è tipo una combo ma potrebbe essere forse l'unica cosa che Oppo in questo spot potrebbe volere trasformare i bluff in realtà Oppo qua a mio avviso sta tipo sempre volo bettando una mano molto forte e mi viene magari in virtù di una lettura che non so quale potesse essere da parte del nostro del nostro Pollix ma qua vedo spesso mani come AK addirittura KKK qualche combo addirittura di asso-asso sono molto poche ma ricordiamoci che il range di Oppo è veramente chiuso ha forbettato questo board ditta molto più il suo che il nostro il nostro asso è tipo il peggior asso che possiamo avere onestamente sarebbe stato addirittura da foldare pre in questo spot Iroh a Villan addirittura ci gira top set ma diciamo che siamo stati un po' noi a pagarlo e non lui a pagare noi ecco attenzione perché per flop va bene la tribet ma il fold dovrebbe essere sempre auspicabile qui apriamo 3x ok chiamano due giocatori abbastanza sensati mettiamo fold check raise in un three way su board coordinato di un giocatore che check raise al 5 un'aggressività media abbastanza bassa una linea di gioco relativamente ma neanche così malvasa un 25-20-10 possono essere stats che possono battere i livelli ma poi una linea abbastanza passiva non ci betta mai tende a foldare troppo tende a difendere poco in questo spot tende a bettare abbastanza e a doncare abbastanza e non l'ha fatto contro questo check raise 6% qui potremmo addirittura valutare l'idea di foldare se questo giocatore avesse avuto un check raise più alto per esempio prendiamo 10 sicuramente dovremmo avere in questi spot allora vorrei bloccare flop ma ricordiamoci che qua il check raise viene in un three way viene comunque dopo aver chiamato una mano da BB contro un giocatore che squizza il 3 fra l'altro per cui potrebbe addirittura girarci jack jack 10-10 jack 10 2-2 10-10 e jack jack li ho già detti vero si qualche combo di draw potrebbe averlo perché KQ suited per esempio non è una mano che Oppo raiserebbe e probabilmente qualche altra combo come magari 8-9 suited ma si contano sulle punte delle dita perché sono tipo 4 combo tutti gli altri ci vedono sotto un treno e contro queste combo comunque giochiamo piuttosto male perché comunque il nostro KK block era un minimo di out per le scale ma non abbiamo pick e non abbiamo motivo a mio avviso contro il giocatore da questo profilo di giocarci i resti comunque o resiamo flop o foldiamo flop non credo proprio vorrei chiamare su questo board Tal comunque pure non è neanche una gran carta Oppo beta perché nel senso Oppo qua non ha magic 2 non è che l'uscita del 10 cambi qualcosa se Oppo va jack 10 è semplicemente full 10x non dovrebbe averne molto in mani ma la nostra equity non cambia particolarmente molto comunque qua Iroh chiama Oppo giro 2-2 prendiamo nota su questo giocatore il fulcro della ritura non è neanche molto sul turn è proprio nel flop dove onestamente su un board così coordinato considerano anche la stack to pot che viene a crearsi perché sul check race del nostro Oppo il pot sul nostro call è di 3 euro noi abbiamo Villan a 3 euro dietro per una stack to pot sostanzialmente di 1 a 1 quindi non è che la linea di call sia necessariamente auspicabile se ci vediamo avanti a range possiamo voler riservare flop come range di value e se no cosa abbiamo in value qua se abbiamo una lettura che Oppo check race al 5 è una linea piuttosto passiva la potremo anche voler foldare perché in questo spot dal nostro punto di vista il virgoletto con le dita anche se non potete vederlo Oppo è fish e sbilanciato in realtà non dico che Oppo l'abbia giocato a male in questo spot se la sua rider è corretta su di noi la sua giocata è stata piuttosto buona in questo caso succedono cose strane apriamo Anderdagan veniamo flattati da un 80 a 90 ok veniamo risati dal BB uno squeeze piuttosto lungo di un giocatore che squeeze al 7 su 1.400 mani non so chi è il nostro Oppo ed è exonto comunque ok in questo spot veniamo addirittura flattati da Sul cosa ci interessa qua giocarsi uno all-in con un 90 a 100 un 90 a 45 un giocatore piuttosto nitti diciamo uno di 4-bet 7 di squeeze che raise in un 3-way pure con una 6 lunga qua stiamo accettando un colpo che semplicemente non ha motivo di esistere poi per push ok non possiamo foldare qua sui 2 euro ma non c'è veramente motivo di 4-bet e pushare mani come 6-6 in uno spot di questo tipo per carità c'è un po' di dead money ma non possiamo onestamente creare un range di questo tipo con mani di questo genere quante volte ho detto tipo genere non lo so 6-6 5-5 4-4 mani di questa sorta mai dovrebbero essere messe in questi range comunque abbiamo pochi ama poi qua non possiamo foldare Villangira 10-10 che è probabilmente il suo bottom range di questo spot suppongo ma la nostra linea con 6-6 è stata estremamente improvvisata attenzione perché è capitato altre volte anche in questo spot c'è un'apertura 3x non vediamo anche le stats un 38-33 si è matrix che su poche mani e contro 3 giocatori a quanto pare gioca un po' più lusi di normale in realtà è un po' nittino mi pare comunque ok apriamo chiamiamo 2-2 veniamo squizzati da un giocatore che su poche mani gioca estremamente nitti fold di matrix e magia delle magie o l'indiretto del nostro hero chi non c'è veramente ah è Ronald mitico Ronald ok so perché allora stava giocando così nitti stava impostando la linea di gioco 12x mi ricordo anche quando più o meno in che periodo sono cadute queste mani comunque qui non c'è veramente motivo di avere un range di limp push in questo spot fra l'altro contro un giocatore abbastanza nitti con 2-2 che veramente non ha non ha equity in questo spot la giocata è semplicemente estremamente v-meno non credo avrei mai un range di call per pushare in questo spot perché almeno veramente non avere una lettura estremamente forte su Ronald che qui sta squizzando veramente tantissimo e comunque 2-2 direi che non ha motivo di far parte in questo range semplicemente qua stiamo ascettando una giocata di v-meno investendo un fantabilione per vincere un piatto veramente piccolo che si era generato senza un motivo apparente qui inizio a pensare a un po' di tilt un po' di costruzione un po' random non credo che Iro giochi in questo modo spesso almeno spero per lui e comunque andremo a vedere spot da analizzare diciamo le situazioni specifiche poi nelle nostre sessioni di coaching in questo spot c'è un mini race di fish 50-20 1 di aggressor 0 di fold poche mani ma comunque un giocatore abbastanza passivo mi raccomando che questo 25 di 4bet non ci impressioni è una mano su 4 e che questo 100 di squeeze non ci impressioni perché è una mano su 1 per cui non possiamo dire che l'unica volta in cui Oppo ha fatto questa action voglio dire che insomma il nostro avversario è particolarmente lose aggressivo mini race re-raise lungo fold in questo spot dobbiamo ragionare davanti a un mini race di un giocatore deep stack non possiamo pensare che contro fish jack jack sia il nostro valo di repush perché sappiamo con che mani ci fanno questi tipi di giocato il nostro avversario proviamo ad aprire un attimo il nostro equilab se come idea generale stando alla popolazione le mani che Oppo ci gioca in mini race possono essere approssimativamente queste grosso modo la nostra mano di jack jack quando noi qua su un pot di un euro andiamo a metterne 5 vince un po' meno del 40 e gioca un po' peggio del 40 quindi è una giocata che non è particolarmente valo diciamo che è proprio giusto accettiamoci il colpo perché di sì notate che ho messo a soco suited che non è neanche detto che ci sia ma ho tolto jack jack perché è l'unica combo contro cui smizziamo ed è una singola combo in un range comunque di una quarantina di combo non sposta molto i nostri calcoli qui in questo spot dobbiamo ragionare che se jack jack non è valo abbiamo motivo per andare in linea di bilanciamento cioè vogliamo difendere una linea bilanciata contro fish direi di no qui dobbiamo mettere 80-100 su un pot creatosi di 1,50 euro più 4,50 euro dietro diciamo arrotondando 1 contro 6 per cui non abbiamo le hozze nel nostro set value in questo spot a mio avviso vorrei una cosa come 1 contro 12 non 1 contro 6 qui la mano si può semplicemente foldare io invece rilesa senza neanche andare all'inopo push e qua chiamiamo ok oppo qua ci gira kk possiamo prendere la nota mini raise big raise insomma mini raise virgol mini raise più raise 4 bet per 3 con kk ma onestamente non c'è motivo di giocarsi i resti con jack jack in uno spot versus fish se almeno non abbiamo già una nota precedentemente presa cosa accade qua di nuovo apertura di fish 50-20 il nostro passieriello non lo conosco con il giocatore molto nitti abc qui sta chiamando tipo solo un range sempre i soliti qualche copietta qualche connector sono giocatori estremamente nitti abc qui chiamiamo solo quando in realtà si può valutare un'idea di squeeze ma su un'apertura 4 per di fish e il call di un regular il call può anche essere sensato può andare veniamo squizzati se non ricordo male da il bb che è un giocatore che normalmente tribetta il 5 squeeze al 9 questo è vero però è un giocatore che tribetta 5 di media e le mani sono comunque poche per ragionare che sul fatto che questo valore sia attendibile il profilo di un giocatore è un giocatore 30-25 quindi nel profilo abbastanza bc andiamo a vedere cosa combina vince qualcosina su 2000 mani ok comunque questo spot sta squizzando in un Fanta 4 way e qui non abbiamo di nuovo motivo di imprisare per poi chiamare 5 bet e creare un piatto che partiva da 80 cent e diventa all'improvviso così un 10 euro non c'è veramente motivo di avere un range di questo tipo lì che qua gira a cappa ci sta direi la giocata nostra è stata estremamente diciamo improvvisata e senza un motivo un motivo solido in questo spot non ha veramente senso ragionare in spot standard di dong bet di check raise di limp raise di call push di tutte giocate che sono assolutamente estremamente diciamo atipiche e non dovrebbero praticamente mai comparire cosa accade in questo spot l'impatina generale di un tavolo dove c'è un 30-20 un 60-10 un 50-10 un 75 un bel tavolo bello fiscioso flopiamo il nostro trips valutiamoci sto un indiretto di un giocatore 60-0 0-4 0-4 10 di riverbet 0-0-0-0-0-0-0-0-0 non so quanti zero ho visto in un codice binario il nostro oppo non saprebbe neanche dire uno a quanto pare comunque questo tipo di size su questi tipi di board non esistamente non abbiamo motivo di investire 6.000 euro per vincere 20 centesimi nel senso che il pot al flop non è esattamente grande e non credo proprio che il nostro oppo per le sue stazze abbia nei range un asso X o un draw quindi il nostro 9-3 batte nulla nel senso che se veramente oppo ha 9-2 suited cosa che potrebbe avere ma resta solo 9-2 a picche perché 9-2 a cuore non c'è a quadri non c'è a fiori non c'è quindi è una combo del range che battiamo perdiamo contro tutti gli altri 9X l'asso X non avrebbe giocato così draw di colore non avrebbe giocato così non escludo che ogni tanto oppo possa girarci una combo di AK giocata a caso ma è a caso sia mettergliela nei range sia pensare che la giochi così a flop un giocatore con questa frequenza qua gira tipo sempre un 9 migliore o qualcosa di genere ma non è per pensare al tipo sempre è per pensare che su un piatto di 20 cent stiamo investendo 5 euro contro un giocatore dal profilo estremamente passivo qui non è che ha un cooler qui nel senso la mano si può foldare abbiamo investito 20 cent nessuno vedrà cosa stiamo foldando non è che facciamo una brutta figura il nostro hop ci gira a 10-9 prenderemo sicuramente nota su questa giocata ma non dovremo poi in futuro giocare allo stesso modo soprattutto in un tavolo dove il giocatore medio è un 50-10 un 60-10 un 75 quindi tutti i giocatori piuttosto fischettosi a maggior parte fischettosi comunque riassumendo un po' quanto abbiamo visto dovremo ragionare sulla nostra linea di call sulla nostra linea di forbet non abbiamo guardato ma il filmato è troppo lungo devo farne un altro e dovrò anche poi caricarle su youtube quindi direi che devo chiudere presto presto insomma è un po' che dura ma andremo ad analizzare insieme diciamo a hero le mani nello specifico sulla linea di forbet per andare proprio a fondo sulla nostra idea di linea rossa comunque in queste mani perdiamo una cinquantina non che tutto fosse salvabile ma la buona parte lo era decisamente tolto il nostro review praticamente sarebbe stato grosso modo una sessione in even ho visto comunque anche qualche spot medio dove veramente ci accogliamo un po' troppo dove non abbiamo una linea diciamo ben costruita a turn e river ma erano spot medi non molto frequenti invece ho visto tante giocate un po' alternative che possono un minimo dipendere dal mindset ne ragioneremo assieme insomma assieme al nostro ninja ma generalmente credo risultino probabilmente per un po' di mancanza di studio come la parte se pensiamo alla nostra parte di squeeze alla nostra parte di tribet posizionale all'assenza della linea di call call ha una linea soprattutto fuori posizione con altri dong bet una linea di gioco che a mio avviso non è proprio ottimale per uno stake che comunque è estremamente morbido non è ottimale praticamente mai è col pushare 2-2 però magari è la mano fetice di hero che una volta le giostre con le paperelle pescandone una non so se avete capito a che giostre mi riferisco vinse addirittura il sacro pallone di Ollie Benji in un campo da gioco di calcio di 34 km per cui con 17 km di mezzo campo intravedevamo la curvatura terrestre ok le stupidaggini piovono quindi è ora di chiudere questa registrazione ci vediamo nel prossimo video per quello di oggi è tutto un saluto alla prossima da Lord Kane ciao ciao